Mr. Calzona, eccolo qui, tutto in diretta, Mr. Francesco Calzona una e la lascio andare, mettiti il vicino, vai, che poi deve andare Leo, guardate qua, grazie, 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 vediamo, vai, vai, che poi va via, fanno qui, grazie, grazie, grazie mille, è gentilissimo, c'è ancora lì, è ancora lì il mister, lo seguiamo finché non se ne va, a questo momento, un abbraccio, tutte immagini esclusive, Francesco Calzona, Calzona, allenatore del Napoli dopo questa bellissima vittoria contro il Monza, Ciro, sì almeno nella foto, eccolo qui ancora, non ho sentito Ciro, ancora Calzona, sì purtroppo Ciro sento il ritorno mio e spero che Emanuele riesca ad aggiustare perché non riesco a capire nulla, perfetto, perfetto e continuiamo a ringraziare anche sia Emanuele Bernardo che Vittorio Bernardo Davvero vediamo un calzone inedito con queste persone giunte qui per salutarlo e sembra che appunto siano dei suoi parenti tra l'altro sembra che possano essere dei suoi parenti o familiari giunti dalla sua terra natia Comunque sì, molto bello vedere anche il lato umano dei professionisti, in questo caso allenatore del Napoli così come abbiamo visto spesso e volentieri alcuni giocatori uscire fino all'uscita, ecco qui baci e abbracci per il mister che ora penso si dirigerà poi verso il Pullman, diciamo è stato molto bello vederlo prima diciamo fare questo abbraccio molto commosso con il ragazzo con la felpa blu che abbiamo visto prima e proveremo a capire dopo meglio di chi si trattava ma sicuramente sono belle immagini anche queste molto molto toccanti diciamo così perché vedo davvero dei abbracci sinceri eccolo qui ancora dall'immagine ringrazio sempre Vittorio Bernardo che ci sta mostrando il tutto e Calzona adesso se ne va e si dirige verso il Pullman del Napoli sì infatti infatti posso chiedervi solo siete parenti del mister, siete amici, amici della cabbia come è stato rivederlo ho visto che eravate molto... come è stato rivederlo? Vittorio, Vittorio semplicemente entusiasmante, emozionante e siamo fieri di lui ho visto che vi abbracciavate quasi incommossi perché vi vediamo da qua siamo dei fraterni amici per cui va bene, amici di famiglia per cui va bene così siamo fieri del suo percorso e ringraziamo Dio che dopo tutti i sacrifici fatti da giovane finalmente è riuscito ad avere i suoi risultati e speriamo poi bene per la Slovacchia all'Europeo tutto per la Slovacchia e anche per il Napoli perché no? vi ha detto qualcosa in particolare? no 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 ci siamo giusto salutati come amici niente di più ho visto che anche con lui c'è stato un bel abbraccio sono il cugino di... di Franco di Francesco era lui? era lui? eri anche a Di Maro dice il nostro collega Antonio quindi un bel momento familiare sì sì siamo orgogliosi di lui e di tutto quello che sta facendo è dura perché sappiamo i sacrifici che ha fatto e si merita tutto quanto e ora ti fate Napoli di nuovo anche voi dopo le varie esperienze ormai siete napolecani noi ti fiamo Napoli, noi ti fiamo Ciccio e nei nostri cuori alla fine se ne andrà immaginate anche voi non resterà non possiamo dire niente forse per voi lo vorreste ancora a Napoli io lo terrei sì sì grazie mille scusate se vi ho disturbato ti ha regalato anche la maglia di Carboni vedo ha detto che l'ha fatto crescere lui è stato il suo giocatore al Cagliari c'è un rapporto anche fra Carboni e mister Ciccio mi permetto anche io di chiamarla così lei anche lei è cugina? io sono la cugina la cugina quindi anche per lei è un bel momento sì 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 grande grande Ciccio ti vogliamo bene ti amiamo tanto capito che è commossa anche lei come si chiama la signora? Francesca come è lui evidente cognome anche di Alzona? sì quindi parenti proprio che possa continuare a Napoli che possa continuare a Napoli sì grazie mille scusate per il disturbo grazie grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.